Grazie. 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 Dal Vangelo di Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se mi amate, osserverete i miei comandamenti Io pregherò il Padre che gli darà un altro consolatore Perché rimanga con voi per sempre Se uno mi ama, osserverete i miei valori Il Padre Dio lo amerà E lui perviva lui e prende le polivora presso di lui Chi non mi ama, non osserva le mie parole La paura che voi ascoltate non è mia Ma del Padre che mi ha mandato Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra loro Ma il consolatore, lo Spirito Santo Che il Padre manderà nel mio nome Egli vi insegnerà ogni cosa E vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto Il Padre è stato un luogo Grazie a tutti. 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 Come facciamo ad ascoltare il Consiglio dello Spirito Santo? Grazie a tutti. 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 gesto con il Medico dell'Amore di Dio, con la sua bontà e tendenza di Padre. Amo. 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 Fortezza. La fortezza è il dono divino che ci rende saluti nella rete, ci irrobustisce per resistere al male. ci dà il coraggio di testimoniare in parole e in opere Cristo, crocifisso e risolto. E l'atteggiamento di chi è salvo nel seguire il Signore, di chi non cede al male, e coerente sceglie la strada giusta, la percorre fino in fondo e aiuta gli altri a fare altre tante. Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia necessario soltanto in alcune occasioni o situazioni particolari. Tutti i giorni ne abbiamo bisogno per portare avanti la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra fede. Il Signore viene sempre a sostenerci nelle nostre lecurezze e difficoltà. L'Apostolo Paolo dice, tutto posso il colui che gli dà la famiglia. Vieni spirito di fortezza che ci fa diventare in Cristo un solo corpo e un solo spinto. Tu forza di legno e potenza d'amore, donaci di testimoniare in Cristo sempre e comunque, di servire i fratelli nella sofferenza e nel bisogno e di resistere all'egrismo e agli stinti passionali. Amo. 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 o della capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. Esso è come una lente di gran milenio, che fa fogliere particolari visibili al proprio umano, e il saper leggere tra le linee, e la capacità di andare oltre all'aspetto esterno della realtà, e scontare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. Ma per arrivare a questo, bisogna guardare dentro se stessi un'operazione che pochi vogliono comprare, perché costa sincerità e richiede umiltà. Del resto il dono dell'intervento deve fare conti con diversi nemici, dai non riconosciuti. pettegorezzi, apparenza, banalità, superficialità, che si dimostrano potenti perché più facili da seguire, anziché andare oltre la facciata e scegliere al cuore delle cose e dei problemi. Vieni, Spirito d'intelletto, che ci conduci alla pienezza della verità, Tu, Maestro e Intentore, che ci guidi alla benità tutta intera e a comprendere il progetto d'amore di Dio per ciascuno di noi. Insegnaci a vedere le creature come i graditi per salire al Padre. Facci vedere la creazione come opera che canta la gloria di Dio. Facci cantare Cristo, cuore del mondo. Amo. Amo. Grazie. 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 La Piedad. Il dono della Piedad tocca nel cuore la nostra identità e la nostra vita cristiana. Indica la nostra apparenza a Dio e il nostro legame profondo con lui. Un legame che dà senso a tutta la nostra vita e che ci mantiene saluti in comunione con lui, anche nei momenti più difficili che tra l'abbiamo. È un legame che viene da dentro. Si tratta di una relazione vissuta con il cuore. È la nostra amicizia con Dio, donandaci da Gesù, che cambia la nostra vita e ci viene di entusiasmo e di gioia. Per questo, adesso, suscita in noi innanzitutto gratitudine e nobile. Il dono della pietà significa essere davvero capaci di gioire con chi è nella gioia, di piangere con chi piangere, di stare vicini a chi è surdo o angosciato, di correggere chi è nell'errore, di consolare chi ha fritto, di accogliere e soccorrere chi è il bisogno. Vieni, spirito di pietà, chi ci ha ingenerati come figli del Padre e ci ha messo il tuo tempio sulla terra, Tu ospite dell'anima, di mora del nostro cuore, infiammaci da morte filiale, di temerizia e di affetto. Così impariamo la male in Padre sotto ogni cosa e a diventare in Cristo una cosa sola. Amo. Così impariamo la male in Padre sotto ogni cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo. Così impariamo la male in Padre sotto ogni cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa. Così impariamo la male in Padre sotto ogni cosa e a diventare in Cristo una 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 cosa. Così impariamo la male in Padre sotto ogni cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa. Così impariamo la male in Padre sotto ogni cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa e a diventare in Cristo una cosa. Il timor di Dio è il dono dello Spirito che ci ricorda quando siamo piccoli di fronte a noi, e al suo amore che è il nostro bene, sta nell'abbracciarci con rispetto e fiducia delle sue mani, proprio come un bambino nelle braccia del suo papà. Quando siamo pervasi dal timore di Dio, allora siamo portati a seguire il Signore con umiltà, dolciità e obbedienza, e a trasmettere tutto l'amore che Lui ci dà. Vieni, Spirito di Santo Timore, rendici consapevoli dell'amore paterno di Dio, e facci sempre attenti ad accogliere nel nostro cammino i segni e le persone con cui Dio ci rivela la sua volontà. Amo. Ed ora eleniamo il Padre, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in scena, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia Papa la tua volontà, come il cielo così interno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri detti, come noi i nostri detti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Spirito Santo, ispira i nostri pensieri e le nostre azioni. Guidaci per i tuoi sentieri, allontanando l'amore ogni inclinazione, alla superbia e al falso ruolo. Spirito di umiltà, donaci un cuore umile e limite, come quello del Cristo, per fuggire il vano parlare, l'agitarsi e per protenderci verso Dio in tutte le nostre scelte di vita. Guidaci per i tuoi sentieri, perché abbiamo pensieri chiari e giusti propositi, da attuare nell'ottica della volontà di Dio, il modo da perseguire il bene nostro e di Dio. Illumina le nostre scelte e le nostre decisioni, perché siamo consapevoli di non dover procacciare noi stessi, ma di dover mettere sempre in alto il piano di Dio. Spirito della pace, donati a noi la concordia e l'unione, e concedici di vivere sempre nella pace del Cristo risotto. Amo. Grazie. 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 Attere. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.